Nato a Bari inizia a lavorare in teatro molto giovane. Nel 1954, debutta nella prosa televisione Rai. Presente anche in radio sia nelle commedie che nei radiodrammi. Nel 1960 inizia a lavorare anche nel cinema ma con pochi lavori tra cui un film accanto alla Magnani, con cui aveva già lavorato in teatro.